Il petit russo cantava più non posso, voleva fare l'attore teatrale, ma c'era un piccolo problema da affrontare, se ascolterete fino in fondo capirete, si presentò al teatro comunale per recitare nell'erico quarto, quando fu il suo momento si alzò in piedi e disse Coraggio miei prodi, corriamo all'arembaggio! Ma la regista notò il suo difetto, gli disse forse non fa il caso tuo, ma poi si accorse che era molto vigoroso e lo trattò come se fosse il suo amoroso, il petit russo ci diede a più non posso, ma non riuscì a saltare manco quel fosso, ella era alta, era bella, era sinuosa, potremmo dire che era quasi una sciantosa! Quindi vedete come va a finir la storia, che nella vita serve anche la fortuna, che questo uccello non ne ebbe manco una, e che la R Mosha non era problema! Tchiii!